La coppia landese terza classificata era formata da Mattis Bambon, Richard Rosendahl, Partail Keirin. Vediamo tra i partecipanti la maglia del campione del mondo, Martin Wayne Notting, Stati Uniti. Titolo vinto appunto a Manchester, ma l'anno scorso è stata una nata stupenda per Notting, Argento a Atlanta, poi campione del mondo a Manchester e secondo nella finale della velocità dietro Florian Rousseau. Mazzin, Notting è davanti a tutti, controlla il gruppo. Viene chiamato lo sprint dai giudici, il Keirin, specialità nata in Giappone. Si parte dietro un motorino, un Derni e poi si lancia lo sprint con Notting nettamente in testa, inseguito da Panasenko, Kirichenko, il nostro capitano che vediamo ancora più dietro con la maglia azzurra. Sta recuperando capitano, ma Notting vince davanti ad Alexandre, Kirichenko, Sergei, Panasenko. E per il nostro capitano, un quinto posto, ma dietro di lui il Florian Rousseau, campione del mondo della velocità. Ecco un primo piano per Martin Wayne Notting, l'americano, che vince questa prova di Coppa del Mundo. in una specialità che è molto vicina, ma eccolo sul podio con l'imno nazionale americano. Andiamo avanti con il programma.